la femmina gli ha detto di no non mi interessa si ha sfugliato comunque la mazza vera sembra una tigre però non si è allontanata è perché la va a truenn la riprovaci che ora ci sta dai dai forse dai dai tra l'altro qua su però ce l'ha messo arriva a bassi e ad bassiani arriva la ruota si è allontanata e noi si stanno un po' riazzinando guarda me le palpate e non c'è il pacchetto in vera guarda che non è lunghi è morboso che è sta aspettando ma che fa la testa di nuovo ex certo grazie 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 Grazie. 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 Grazie.